Quando manca il lavoro, lo sapete bene, l'elenco delle fragilità che accompagnano la disoccupazione è infinito. La ressurrezione si vive ogni giorno anche attraverso la dignità del lavoro. Nella messa celebrata dagli stabilimenti fincantieri di Riva Trigosa, Sesto e Levante, Monsignor De Vasini ribadisce il triplice annuncio dato dalla Pasqua, che Gesù è risorto, che anche noi risorgeremo con Lui a vita nuova e che già oggi nella vita terrena si può fare esperienza di questa ressurrezione. Questo avviene, quel passaggio da morte a vita, ha spiegato il Vescovo, tutte le volte che usciamo da noi stessi per prenderci cura degli altri, quando doniamo la nostra vita per dare vita agli altri. E il lavoro è un ambito concreto nel quale avviene questo annuncio. Si compie tutte le volte che si riesce a coniugare produzione, profitto, competitività, con solidarietà, sussidiarietà, dignità. Ecco, tutte le volte che si riesce a coniugare questo, è Pasqua di risurrezione, è passaggio da morte a vita. Oltre un centinaio di dipendenti che hanno preso parte della celebrazione eucaristica animata dal coro dei lavoratori. A questa è seguito un momento di condivisione e di ascolto nella sala della direzione. Qui è stata ricordata anche la figura di don Antonio Pessagno, storico parroco di Riva Trigoso, molto legato alla realtà del cantiere. Per me è la prima volta qui, è stata una celebrazione molto bella, molto partecipata, anche molto curata nel canto. So di raccogliere come parroco di San Pietro a Riva, appunto, la tradizione che legava molto don Pessagno in particolare, che è stato parroco per 51 anni in questa comunità, ai cantieri. Dunque, mi piace dire anche che alla festa di San Pietro quest'anno vorremmo proprio fare un po' memoria di questa bella figura di pastore e attorno un po' alla sua memoria appunto rilanciare anche la vita della nostra comunità parrocchiale.